Per questa terza puntata delle lezioni con il professor Beppe Ghisolfi sull'alfabetizzazione finanziaria abbiamo una definizione particolarmente importante che è quella della BCE o Banca Centrale Europea, importante perché proprio l'ignoranza di questo termine ha fatto nascere da parte di una persona che sarebbe dovuta essere di cultura, ha fatto nascere l'idea di iniziare questo manuale. Allora professor Ghisolfi, la Banca Centrale Europea, ne sentiamo parlare continuamente, sappiamo che è una cosa importantissima, sappiamo che è un'istituzione che in qualche modo condiziona le vite e l'economia di tutti noi, ma che cos'è una banca centrale e nello specifico la Banca Centrale Europea? Dunque intanto comincio a dire che è presieduta da un italiano perché è un motivo di grande prestigio che il presidente della BCE sia Mario Draghi che è stato governatore della Banca d'Italia. Tra i compiti principali, perché non possiamo elencarli tutti, c'è quello di tenere a bada l'inflazione. Uno dei problemi che ha l'economia è quella che se l'inflazione va troppo avanti e diventa addirittura due cifre, allora i prezzi aumentano in un modo sproporzionato e si crea tutto un meccanismo che impoverisce soprattutto le classi meno ambienti. Non va bene però neanche il contrario, cioè anche la deflazione. Noi adesso siamo in deflazione, che è il contrario dell'inflazione. Non va bene perché se i prezzi tendono a diminuire, diminuiscono significa che sono diminuiti i consumi, ma questo significa che è diminuita la produzione e quindi i posti di lavoro, l'occupazione, eccetera. Quindi i compiti sono complessi perché bisogna trovare il sistema che ci sia un'inflazione, possiamo fare l'esempio del 2%, che sarebbe l'inflazione ideale perché consente di far girare tutta l'economia secondo ovviamente gli strumenti che emanano la BCE. Altro importante compito che ha la Banca Centrale Europea è quello della vigilanza sulle banche. Prima la vigilanza sulle banche era appannaggio della Banca d'Italia. Attualmente per un certo numero di banche si prende come parametro i volumi, il controllo lo fa la BCE che poi man mano dovrebbero passare tutte le banche sotto controllo della BCE. La vigilanza del sistema bancario è importante perché garantisce che ogni banca applichi le regole e le norme che devono essere applicate, che risponda ai parametri che ovviamente sono necessari e che abbia quei requisiti per cui una banca se ha determinati requisiti di patrimonio, di controlli interni e di altre cose, il risparmiatore a questo punto è più garantito perché lavorando con i soldi degli altri le banche devono dare delle garanzie in più rispetto a un'azienda normale. La BCE con la vigilanza fa sì che questo avvenga. Allora vediamo se abbiamo capito bene, ci corregga se diciamo sciocchezze. La BCE è la banca centrale dell'euro, quindi tutti noi europei, che sostanzialmente immette il denaro necessario, avendo attenzione di non immetterne troppo, cioè per non aumentare l'inflazione e quindi per non diminuire il potere di acquisto di ognuno di noi, ma di non immetterne neanche troppo poco per non penalizzare l'economia e non creare disoccupazione e calo dei consumi. Sta in questo la difficoltà perché se si trovasse di immettere quantità di denaro o non immetterle siamo capaci tutti. Qui bisogna calibrare e controllare i fenomeni come avvengono per evitare quello che diceva lei, cioè perché la deflazione per certi aspetti è peggio di un'inflazione molto accentuata, l'inflazione va bene ma entro limiti che non siano... Che non vadano a erodere troppo il potere di acquisto delle versioni. Esatto, e che ovviamente non danneggino soprattutto le classi meno ambienti perché un'inflazione esagerata costringe alla fame coloro che hanno uno stipendio diciamo medio-basso, magari è tollerata o comunque dà meno fastidio alle classi dirigenti e a coloro che hanno dei stipendi alti. Si diceva una volta che l'inflazione è una tassa iniqua, cioè una tassa reale che però noi non percepiamo. E un'altra cosa che deve fare la BCE, come ci ha spiegato lei, è quella di controllare voi banchieri perché non facciate prestiti a go-go a persone che non possono restituirli. E che la banca, certo, molto in passato, anche fuori dall'Europa dove c'erano altri controlli che forse erano meno stringenti e soprattutto garantire le banche col loro patrimonio, patrimonio di cui si richiede sempre un aumento, garantire ovviamente i risparmiatori della banca. Quindi il problema che molte banche hanno e che avranno ancora di più in futuro è quello che devono aumentare il proprio patrimonio. Ma come si fa a aumentare il patrimonio? Beh, è complesso perché il patrimonio non si aumenta o chiedendo un aumento di capitale, ma questa voce la vedremo in una prossima puntata, oppure destinando una parte degli utili, ammesso che la banca faccia utili, ma in genere ne ha, una parte consistente degli utili, si manda a patrimonio e l'altra parte invece si distribuisce. In questo modo si aumenta il patrimonio. Bene, allora a questo punto anche la sua amica che le ha ispirato questo libro non ha più scuse. Abbiamo spiegato che cos'è la banca centrale europea e passiamo alla banca centrale italiana, a Banca Italia. Certo, la banca d'Italia, prima della banca centrale europea, per le banche e per una serie di controlli viene la banca d'Italia. La banca d'Italia, anche qui ci sono tanti argomenti di cui si occupa, ma quello che incute più paura alle banche è la vigilanza, perché molti non sanno che una banca, per esempio, normale, una piccola banca o una grande banca, ogni due o tre anni riceve l'ispezione della Banca d'Italia. Non è una cosa, diciamo, così da prendere alla leggera, perché l'ispezione significa che cinque o sei persone per tre o quattro mesi vanno a vedere in tutti i cassetti della banca, vanno a rovistare tutte le pratiche. In circa. Tant'è che come effetto, dico questo perché l'effetto dell'ispezione è quasi sempre che dopo l'ispezione, non in tutti i casi, ma in gran parte dei casi, la banca quell'anno successivo ha un bilancio in perdita. Perché? Perché gli ispettori fanno sì che molte partite che tu non vedevi o non ti conveniva vedere o comunque non andavano a sofferenza perché tu ritenevi che non ci fosse bisogno di accantonamenti, la banca dice no, queste partite sono di recupero difficile, quindi bisogna accantonare. Ma accantonare, se non hai la possibilità, vai a finire che vai in perdita. Le ispezioni si concludono sempre in questo modo, l'anno dopo la banca fa il bilancio in perdita. Molte volte però le ispezioni terminano anche con delle ammende e anche pesanti per gli amministratori, perché quando la Banca d'Italia ritiene che per esempio sul fronte controlli, ora uno dei temi più gettonati è quello dei controlli, se la banca è carente, e questo può succedere nelle piccole e medie banche perché istituire questi uffici di controlli, di complai, di necessità personale, costi, io posso mettere su tutti i controlli che tu mi chiedi, ma mettere su questi controlli significa aumentare di molto i costi, ma se aumento i costi sì che avrò fatto i controlli, ma non farò più utili, quindi bisogna trovare anche qui una mediazione. Naturalmente però su queste cose non si può transigere, se la Banca d'Italia ti dice che devi fare, creare gli uffici e il personale per fare questi controlli, tu li devi fare. Quindi è un organo che nonostante abbia questi compiti, però contribuisce a far sì che le banche funzionino meglio. Bene, adesso per chiarezza, per dare agli spettatori un quadro chiaro, noi abbiamo visto che inizialmente prima di entrare nell'area euro era la Banca d'Italia che stampava il denaro e controllava diciamo che non ce ne fosse né troppo né troppo poco. Con l'arrivo dell'euro e quindi con la BCE che si è sostituita alla Banca d'Italia nello stampare gli euro, la Banca d'Italia però ha mantenuto le prerogative di vigilanza, quindi continuo a controllare che voi banchieri vi comportiate bene e a farvi controlli se non vi comportate bene, però è importante dire una cosa, la Banca Centrale Europea è a sua volta posseduta dalle banche centrali delle varie nazioni, quindi la Banca Centrale Europea è una grande banca centrale che è di proprietà della Banca d'Italia, della Banca di Francia, della Banca della Germania, in proporzione alla dimensione economica del paese. Esatto, non nella stessa proporzione ma proprio alla dimensione economica. E proporzione appunto alla banca. Giustamente. Quindi la BCE, la Banca Centrale Europea è anche in parte nostra degli italiani in proporzione a quanto contribuiamo al bilancio complessivo dell'Europa. È proprio così. Quindi bisogna ricordarlo questo e ricordarlo anche, noi abbiamo la fortuna in questo momento di avere Draghi alla presidenza della BCE che sta avendo una particolare attenzione alla situazione dei paesi del sud Europa, dei paesi dell'Europa Mediterranea, però bisogna ricordare che la BCE è un'istituzione che è di tutti gli europei, non soltanto di una parte di loro. Sicuramente. Con questo concludiamo anche per questa settimana le nostre lezioni con il professor Ghisolfi e diamo appuntamento ai nostri spettatori alla settimana prossima. Grazie.